Cantare all'aperto, poi in una cornice così bella, è veramente come cantare alla gente, la gente che non è davvero lì perché ha pagato il biglietto, ma la gente che cammina e che si ferma per ascoltare senza che ci sia un biglietto, senza che ci sia un contenitore qual è il teatro, secondo me è ancora più emozionante. Quello spirito è quello di vivere una manifestazione che sta diventando qualcosa di divertentissimo e di qualificatissimo, in questo ambito Massimo Germinario mi aiuterà a presentare due belle sfere di Vetro Ambrato, che è il mio secondo romanzo, sempre per Marcos I Marcos di Milano, che è una storia sì umanistica se vogliamo, ma di divertimento umanistico perché parla niente niente del mistero di due belle sfere di Vetro Ambrato che conterrebbero le parti nobili del cavallo di Bartolomeo Colleoni. La musica per me è per divertirsi e per emozionare, è una cosa molto emozionale, ma per me è una forma di rilassare dopo aver riportato tutto il giorno. Quando mi invitarono, non nemmeno sapere che tipo di musica ero, sarà una sorpresa per alcune persone, ma sono qui per l'altro, credo che sono uno dei pochi autori che potrebbe giocare un'istrumento. Mi ricordo che stavo parlando con mia sorella, da un citofono perché non si poteva entrare in animazione. Parlavo attraverso il citofono e io gli ho detto a lei, non posso più camminare, lo so, ma le mani, nel senso che a me non mi interessava tanto il non poter camminare, mi interessava l'uso delle mani. Le storie e questa musica, il rebetico per esempio e altre musiche che vengono trattate qui, sono musiche che hanno sempre i piedi molto in basso, fanno parte del basso dell'uomo e non lo tengono fuori dalla vita. Io credo che il basso sia molto importante e l'unica occasione che abbiamo per ascendere e diffido moltissimo della soddisfazione, ecco, perché ne soddisfatto di questo libro, ma sono venuto qui solo perché ho il piacere di essere presentato da Alan Ginsberg in persona, si chiama Stefano Salis.